Dopo la trasformazione in istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, questa mattina la Commissione Sanità della Regione Toscana ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, una struttura sempre più vocata alla ricerca e un'eccellenza a livello mondiale. La trasformazione in IRCS del Meyer consentirà una maggiore messa in pratica dell'attività di ricerca in casi clinici reali, un'innovazione partita da una scelta del 2015 della regione che ha avuto come obiettivo quello di mettere in rete tutti gli ospedali della Toscana che hanno come faro per la pediatria il Meyer. La rete pediatrica risponde all'idea che i bambini in qualsiasi parte di una regione, come abbiamo visto un modo di ripercorrere anche oggi molto diversa da un punto di vista orografico di popolazione, possono avere lo stesso livello di trattamento in qualsiasi parte della nostra regione. Grazie a quella scelta oggi c'è già funzionante una rete di collegamento e di teleconsulto in tutto gli ospedali della nostra regione, quindi i genitori possono essere sicuri se vanno in qualsiasi ospedale della nostra regione c'è il teleconsulto con il Meyer che è il punto capofila e quindi ovviamente questo è un lavoro che deve andare avanti. Un momento di confronto fra la regione e la direzione ospedaliera che ha ribadito come la Toscana vorrà continuare ad investire anche in futuro sul presidio. È un ospedale che corre e che naturalmente è utilissimo confrontare la nostra realtà con poi anche quella della terza commissione.